Z1 compact riprende molte delle caratteristiche che hanno contraddistinto lo Z1, il tutto però in un corpo più compatto. A livello estetico lo Z1 compact si presenta davvero solido e ben costruito. La dimensione ridotta rispetto al modello Z1 lo rende davvero facile da maneggiare con una mano sola. A livello hardware troviamo un processore quad core da 2.2 GHz a cui si abbinano una RAM da 2 GB ed una memoria di massa da 16 GB espandibili. La dotazione è completa per i moduli di comunicazione che comprendono 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ed NFC. Il display è di sicuro una delle caratteristiche vincenti, migliora rispetto allo Z1. Questo IPS da 1280 x 720 pixel con tecnologia Triluminos restituisce infatti colori brillanti con ottima gamma di colori e luminosità eccellente in ogni condizione. A livello di sistema troviamo Android alla versione 4.4.2 con interfaccia personalizzata da Sony. La caratteristica principale è l'eleganza e la pulizia con qualche funzione aggiuntiva interessante come la possibilità di ordinare le app o disinstallarle direttamente dall'app drawer. Il sistema in ogni caso si dimostra fluido e scattante. Buono anche il multitasking aiutato da 2 GB di RAM installati. A livello multimediale Z1 Compact presenta un ottimo player multimediale ed una doppia fotocamera. La fotocamera principale da 20.7 megapixel con BSI e processore dedicato è sulla carta una delle migliori offerte dai top di gamma di questo 2014. Nonostante un'ancora acerba gestione a livello software, le foto sono ottime con rumore contenuto anche in situazioni di bassa luminosità. Sony Xperia Z1 è uno smartphone molto interessante che non delude sotto e nessun punto di vista.